Ragazzi, questa serie è durata così tanto tempo che hanno anche annunciato un remake nel frattempo. Io non so cosa dire, però almeno oggi lo finiamo. Allora, eravamo rimasti nella fabbrica e c'è una cazzi, niente. La produzione va avanti come previsto? Nonostante il fatto che Mack, Bawyer, Yaridovich e la truppa Axe mi siano stati battuti. Di questo passo Smithy avrà un nuovo esercito in un batter d'occhio. Un nuovo esercito? Non puoi creare altre armi. Non hai casato già abbastanza problemi? Qua mi sa che doveva essere la brunale, però la traduzione è magica come sempre, quindi va bene così. Oh sì, e tu chi saresti? Questo è il Mario. Arregniti finché sei in tempo. Ferma la produzione ora o lui ti schiaccerà. Cosa hai detto, piccolo padrone gonfiato? Mazza pazza. Ma come è mazza pazza? Distruggili. La pazza che straparlazza. Vabbè. Non credo sia un problema. Eh, appunto, perfetto. Non so se è Peach, ma Peach non bastava. Spoiler, però non sono un problema. Eh, lui va via addirittura. Perfetto, ottimo. Va bene. Vediamo di che basta sei fatto. Attenzione, mini boss contro Shovel Knight. Eliminiamo prima questi. Quanto danno faccio, perdonami. No, con Peach attacco Shovel Knight. Con Mario sciotto la mazza pazza. Eh, qua usa più svalore. Più, ora usa più vigore. Vabbè, non è un grande problema, comunque mi sembra. Oddio, non so quanto male faccia. E gli faccio poco male io? Oh no. Quanto male? Ma fa 11, ma allora no. È veramente una merdina. Ma infatti non è neanche un boss per il gioco. Dai, ora muore. Me lo sento. Non sono palesemente blind. Vedo le stat. C'è un monitor qua con tutte le stat e tutti i cheat. Ci siamo quasi, Mario. Forza. Guarda che sono incazzati qua le frecce. E non le posso combattere, ok. Cosa accade di che faccia questo interruttore? Ferma la produzione. No. Arriva l'artiglio. Perché quella faccia, Mario? Oh, ho capito. Vuoi che guardi in alto, vero? Non ci cascherò. Eh, bravissimo. Mello, sei un campione. Sei un campione. Cavolo che paura. A quanto pare l'interruttore vede contro la gru. Eh, sì? Mario. C'è Todd. Anzi, mando. Grazie per specificato. Fiu, io finalmente sono arrivato fin qui. Lasciate che mi aiuti. Principessa. Chiedo scusa per essere sgattagliata via senza avvisare te o il cancelliere. Volevo solo che le cose tornassero alla normalità. Volevo fare la mia parte. Sì, ma certo. Farei qualsiasi cosa che possa aiutare Mario e la principessa. Ci aiuterai tutti e due? Perché dovrebbe aiutare solamente uno solo? No, niente. Aiuto solamente Peach. Se Mario poi è stronzo, muore. Non mi interessa. Beh, ho portato tutto quello che ho potuto. Vedete qualcosa di utile? Ok, un negozio. Allora ci prendiamo un paio di scella shake, due sciroppi d'accio, un ultrafungo. Uno stato shake potrebbe... Never mind. Allora vendiamo qualcosa. Duro shake è quella che mette la difesa, che potrebbe non essere male. Ho veramente tanti energy shake. No, allora facciamo così. Questo è per te. C'è qui. Caramella di zucchero. Grazie, Todd. E punto di domanda? Che cos'è la caramella di zucchero? Ah, dai. Finalmente vi vedo che cazzo è la cizucchero. Non è canna la zucchero. È caramella di zucchero. Che permette di dire che non vuol dire una vega. Caramella di zucchero. Però, ok. Ci sta. Finalmente dopo mille anni. Quanto mi mancava a Super Mario. Lo dico ogni video praticamente ormai perché lo gioco ogni sei mesi. Però è veramente, veramente figo. Ecco il rapporto. Signore, la punta di trapano sarà finita in un parte d'occhio. Siamo in anticipo sul programma. Smithy sarà fiero di noi. Ottimo lavoro, gente. Più solo lavoriamo è più forte diventerà Smithy. Le armi che fabbrichiamo qui saranno... Pensateci. Quando Smithy conquisterà il mondo di Mario, potremo fare quello che vorremmo. Era scritto con due M. Vorremmo. Non era giusto, ma non fa niente. Non così in fretta. Siete proprio di un bel gruppetto di presuntuosi. Io domino il mondo. Che bello, Bowser. Quanto è patatino. E Mario? Ma due gli Arrivici due non l'hanno fermato? No, no. Non è di Mario che dovete preoccuparvi, ma di me. Mario, stai per realizzare il salto più lungo della tua vita. No, povero Bowser. Mi stai ignorando? No, poverino. Vorrei solamente un abbraccio. Facciamo come prima? Sì. No, che tanto... Madonna, lì sciotto veramente. Faccio un danno veramente sbagliato. Oddio, potevo... No, potevo usare comunque Peach. Cioè, sul martello. Sulla mazza pazza. Perché almeno la sciottavo adesso, vabbè. No, no, la bomba spritz. Ha fatto... Cento! E allora no. Allora facciamo così. Attacco la mazza e mi cura con Peach. Eh, per forza. Devo farlo. Vabbè, sarà un boss per ogni personaggio a questo punto. Cioè, sarà quello di Mellow, quello di Bowser. E sono arrivate altre mazze. E allora no. Allora attacchiamo direttamente il principale. Perché se no, se arrivano all'infinito non finiamo più. What the? Questo fa malissimi amissato. Mi amissato. Ottimo. Dai, quante vita avrai? Veramente. Ragazzi, sembra che lo faccia apposta, ma non è assolutamente vero, ve lo giuro. Io non ho le stat dei nemici. Non so quante vita abbiano. Vabbè, non sono praticamente complicate queste, eh. È più un filerone prima della fine, mi sa. Non volevo fare questo, ma ormai sono morti. Addio. Perfetto. Eh, 44 non è. È infatti level up. Imparate a qualcosa? No. Mi sa che ormai tutto quello che possono imparare l'hanno fatto, eh. E anche come level up aggiuntivi mi sa che... Guarda, non so. Cioè, cambia veramente poco. Ok, idem lui, niente magie imparate, un punto magia, due punti vita, ma guarda, prendiamo... Onestamente qua cambia veramente poco, secondo me. Beh, come la luna durante il giorno, il mio genio e la mia forza sono sprecati con questi idioti. Ah, come? No, come? Ma che bello. Ma no, gli ha fatto pat pat. No, che patatino. Eh, qua c'è lo Shovel Knight rosso. Ehi tu, sei quello che comanda qui? Hai idea del danno che le tue armi stanno facendo nel nostro mondo? Ferma tutto immediatamente. Temo che non sia possibile. Qualsiasi posizione di smithy verrà immediatamente sciolto. Come sciolto? Non mi fai paura. Ho Mario al mio fianco. In realtà ce l'hai davanti. I dissidenti verranno eliminati. La produzione continuerà. Eh, idem come prima, allora qua. No, non mazz... Ah, sono mazzettere, sono più mazzepazze, ok. Oh no, sono tremante. Anche Mario è tremante. Peach no, grazie Dio. Eh, attacchiamo, non posso fare molto. Forse posso fare un lampogeno. Però tanto non elimino con un lampogeno le mazzette, quindi... Anche perché mi sa che ho meno attacco quando tremo, è possibile. Aio. Meno aio. Un aio medio. Ah, no, non mi sono parato. Tanta vita ho? Poca. Ora poca, ora mi curo. Dai, secondo me non ha tanta vita ancora. Un paio di colpi secondo me può esplodere. Però fatemi attaccare. Vi prego. No, ragazzi. Allora. Io vi giuro. Io vi giuro. Non stavo neanche parlando perché non pensavo che stesse... Per esplodere veramente... Sono veggente. Devo andare... No, adesso appena finisco il video esco fuori il gioco all'otto perché ho dei problemi. O cioè, ho dei poteri o dei problemi oggi. Quando io ho fatto... Come ho fatto a fare tutto quel danno? Come ho fatto? Ho fatto 600 di danno ma non so in che modo. Forse qualche buff che ha preso dal... Dalla morte del nemico. Perché non ho capito. Però buono. Che paura. Ma non possiamo scappare ora. Dobbiamo liberare il nostro mondo da questi delinquenti. Va bene. Va bene, Peach. Oh, salvataggio. E andiamo. Salve. Non so cosa sto vedendo. Capofabbrica. Mario! Sono sorpreso di vederti qui. Ma questo è il capolinea per te. Assapore al momento perché non arriverai mai a smithy. Questo lo dici tu? Sarei in mangime per la mia ultima invenzione. Il... Gunyolk. O Gunyolk. Il tuorlo pistolo... Non lo so. Non ne ho idea. Partiamo. Bestia. E attaccherei il capofabbrica perché secondo me ha meno vita di... Di quel robo lì. Mi devo curare con Peach appena posso. Oppure no perché il veleno mi ha ucciso prima. Ottimo. Stella Shea... No. Ho detto Stella Shea. Ma che bello! Ma no ti prego! Ma quanto sei bello! Ha ragione devastante e ci ha devastati. Effettivamente non mentiva. Congiglione. Eh sono avvenato. Ma mi fa un danno sbagliato. È sbagliato il danno che fa questa cosa. Eh no more Mario però aspetta. Usiamo questi funghi qua. I funghi che curano macchina. Non ho mai capito a che cosa servissero. Ah. Ah ah. Ok mi sa che... Mi sa che non servivano allora. Però posso curare anche lo status così. Teoricamente. Perfetto. Ah ok ok. Ora è il mio turno però teoricamente. Quindi dovrei riuscire a non morire. Eh però mi difendo. No tanto... No dai. Non mi può attaccare adesso. Certo. Eh addio. Mondo. Ok. Allora l'importante è salvare noi. È salvare noi due. Mi sono parato perfetto. Che riflessi incredibili. Ora attacchiamo di nuovo. E poi usiamo resuscita con Peach. Ah vabbè 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 vabbè. Vabbè ma pure è morto lui. Allora guarda figurati. Non c'è più problema. Che male? La resuscita. Non lo vedo molto pericoloso. Ormai. Mi difendo perché voglio essere sicuro. Lui è bellissimo. Però non è un boss incredibile questo. È comunque... Cioè fa un danno spropositato. È ok. Questo è interessante. Però non è incredibile come boss fight. Cioè ho visto molto di meglio. Non ha grandi meccaniche particolari. Cioè allora capiamoci. Ha probabilmente le boss fight migliori di tutti i RPG che ho giocato. Per quanto sono fighe, divertenti e uniche. Quindi ci sta che un paio si è una sottotono. Però questa non è... Non è bellissima. Sì no è veramente un po' una palla in realtà. È morta. Ok. Non era incredibile questa. La produzione non si è fermata. Col pulsante forse. Le armi arrivano da lassù. C'è la gru. Ah dobbiamo sconfiggere Smithy. Va bene. Siamo pronti? Siamo pronti. Siamo quasi all'epilogo. Ah ok. Ti dice proprio. Se non hai fatto le altre robe vai a farle adesso. Andiamo. Che abbia inizio lo spettacolo. Siamo full. Siamo ancoraati? Sì. Perfetto. Ho fatto una roba. Ho fatto una cosa. Non ho capito cosa ho fatto. Ah. Ok. L'ha presa un po' lunga ma ok. Salve. Ehi. E con l'ultima scherzi a stella. Dove? È quella addosso a lui? Tra l'altro lui crea le... Le armi proprio. Col martello. Tipo Efesto. Hai già finito il tuo giro della fabbrica? Va bene allora. Cosa ne dici di una dimostrazione? Ok. Ehi smiti. Smetti di fabbricare quelle cose e dacci la scheggia stella. Ora. Non sembra molto turbato dalla nostra presenza. E così tu saresti Mario. A quanto pare avremo una piccola discussione per la stella. Consiglicela ed esci dal mio castello. Cavolo. Siamo un po' suscettibili oggi no? Sai questo posto comincia... Comincia a piacermi. Traduzione... Meravigliosa come sempre. Però va bene. Per favore. Abbiamo già sofferto abbastanza. Solo dacci la stella. Ma come cazzo è scritto? Beh come l'ha tradotto? Ho capito? Va bene lo sforzo. Però allora. Apprezzo lo sforzo. Di chi traduce un gioco così. Che non è facile. Però Cristo. Un minimo di quality control. Un minimo. Avevi tutto il tempo del mondo per farla. Fallo uscire due mesi dopo. Perché invece nominate voi le vostre stelle? Così potrò conquistare il mondo. Ovviamente. In questo modo potrei eliminare tutti i desideri e creare un mondo pieno di armi. Ora venite qui. Vi scaccerò tutti. Dai boss finale. Non deludermi. Oh sì. Oh che ho la musica diversa. Che figo. Beh allora a questo punto. Visto che il boss finale. Io. Oddio. Un duro shake lo userei. Ah no. Non è del party. Ok. Pensavo fosse del giuppo. Chissà perché. No. Allora niente. Allora lasciamo stare. Cioè potrei usare duro shake su pitch. E... No. Vediamo così. Vediamo quanto noi facciamo. Perché non è escluso che lui ci uccida anche. Pressa. Ok. Non facciamo tantissimo danno. E purtroppo. Mi curo perché non so cosa mi aspetti. Io direi per adesso attacchiamo perché non so quante volte io mi dovrò curare. E appunto. No. Mi difendo per adesso. Attenzione. C'è il piusce palla. Crea un'arma. Dalla. Dalla gelatina dei gumi. No. A questo punto usiamo un lampogeno. O magari facciamo un danno incredibile così. Che ne sappiamo. Ah ma posso attaccare. Ah no. Allora aspetta. Perché c'è anche il piusce palla che è attaccabile. Mille spade. Ora mi curo. Pressa. Sono morto sai. No per molto poco. Allora no. Allora. Allora aspetta. Aspetta. Piuttosto usiamo poi un scioppo d'acero. Ma uso le robe ad aria. Dopo essere micurato. Cioè esplogeno lo continuo a usare perché ho troppi nemici. Ora dovrebbe morire almeno il tipo timido. Teoricamente. Esatto. Parata perfetta. No. Attacchiamo il pesce palla allora. E non lo vedevo lì perché era nascostissimo. Attacco anche con pitch. Tanto non vedo perché non farlo. Ora creo un'altra arma. Ma forse finché c'è un'arma in campo non mi... Non ne crea delle altre. Eh però comincio a finire i punti fiori così. Cazzo non va bene. No no no. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Mille spade. Eh ma anche quelli piccolini comunque danno fastidio eh. Cioè guarda qua. Attacchiamo sempre la fonderia. Curino. E abbiamo già metà punti fiori. Stiamo tranquilli allora. Facciamo così. Poi se vediamo che ne crea un altro e non rimangono solamente lui e un minion. Attacchiamo di gruppo e poi ci curiamo allora. Pioggia stelle. Cazzissimo. Eh. Mo. Mo so cazzi. Mi sa che sono morto. Mi sa che ho fallito. Eh grazie ma. No crea pure un'altra arma. Eh no non posso. Come faccio? No ho fallito. Devo eliminarli subito. Li devo eliminare subito e quindi farò... Usiamo lo Stella Shake su di Mario e poi ci curiamo con Peach. Sperando di riuscire a sopravvivere. Non sono sopravvissuto. Spoiler. No ho perso. È complicato. È tosto. Allora usiamo veramente i buff. A questo punto usiamo i buff. E devo eliminare subito quello che crea. Riproviamo. Allora. Userei intanto l'Energy Shake su di Geno. Così attacco di più e anche su di Mario poi. Mi curo. No non rischio. Mi curo. Devo sempre curarmi. Devo essere sempre full. Il duro Shake non so se valo su Peach o su nessuno in realtà. Forse non so se convenga. No. Oddio. Forse sì. Forse sì. Dai usiamolo. Utilizziamo gli attacchi di Geno quando crea la... Esatto. Quando crea l'arma. Perché così eliminiamo tre... Copiamo tre nemici in un colpo solo. Perfetto. Grazie di non aver fatto la mille spade. La mille foglie. Ok. Abbraccio. Oddio. Magari è su tutto il gruppo. Allora. Perché mi ha fatto meno male a tutti la pressa. Potrebbe essere su una sola persona ma generale. Non lo so. I don't know. Ora fa l'arma. Non gli tolgo tantissimo a loro con le magie di Geno. Però. Devo togliere la fonderia. Perché è troppo una rotura di cazzo. Devo fare i lampi. Poi usiamo un po' di punti fiore. Cioè usiamo lo sciroppo d'acero. Ma mi serve fare danno d'aria. Non ho fatto niente. Come mai? Non ho neanche colpito il pesce. Ah il pesce non c'è più. Ok. Allora ragioniamo. Si comincia. Ma dai. Prendimi gli attacchi giusti. Si comincia a ragionare allora. Mi sa che. Ah potrebbe avere una seconda fase. Perché il boss finale è un JRPG. Della Squaresoft. Quindi potrebbe avere una seconda fase. Anzi spero quasi che ce l'abbia. Sarebbe un po' triste. Non ce l'avesse. Quanta vita avrà ancora? No. Incazzato. Le frecce di Bawyer. Tranquillo Smithy. La tua testa sembra un geyser. Cosa? Drillbit. Non ti arrabbiare. Pensa alla tua pressione. Alle coronarie. Lo abbiamo appena costruito ieri. E la fondamenta sono molto deboli. Ah la testa del trapano. Smetti di scuotere il pavimento. Ah no. Proprio il castello. La fortezza di Smithy. Siete estremamente noiosi. Credo che mi intendesse... Io voglio sapere se qua fosse boring o annoying. Perché ho la sensazione che sia annoying. Vediamo. Ehm... 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 Complimenti. Boss mentre si cade? Non credo. Perché è diventato una creepypasta? Perché c'è... Five Night at Freddy's dietro? Che cazzo sta vedendo? Wow. Ardo bollo. Non sono mai... Non sono mai sono stato... Cresso la traduzione però. Figli miei. Non ce la posso fare più. Mi aiuta perché non devo tradurre al volo. Ma Cristina da Venere è meglio farlo forse. Trattato così. E ora... Vi mostrerò la mia vera forma. Il mio vero potere. Vi insegnerò il rispetto. E avrò la mia vendetta. No! Come no? L'epilessia? Santo e Dio. Santo e Dio. Che schifo sei. Madonna che... Che musica... Intriposa. Punti fiore? No. Allora facciamo così. Usiamo... Uno sciroppo reale. Così ci ricorda tutti. Spero di avere ancora i buff. Ma non ne sono convinto. Scusa? No. Usiamo il... Un fungo. Su di Mario. Non voglio usare l'abbraccio. Perché mi... Non ha senso per adesso. Però devo farlo. E qua... Attacchiamo quello. Non lo so. Quanto male? Troppo male. Un brutto brutto male. Mi ho fatto... Una madonna. Ottimo. Pitch. Eh, mi devo curare. Però sempre con un ultrafungo. Oh, grazie. Gratis. Ottimo. Sì, non ho altri obiettivi. Non riesco. A cosa? A non farmi del male, mi sa, a questo punto. Ah, ho rotto il martello. Perfetto. Curiamo Mario? Curiamo Mario. Però con terapia. Perfetto. Sembra veramente dando la musica di Trondi in Mars 2 questa. Che ha senso, perché è sempre la Cimomura. Sì, possiamo attaccare. Però devo curarmi al volo con Pitch. No! No, non farlo! Cosa è... Sto vedendo? Ma che cazzo... Ma che incubi sono questi? Cristo! Terapia. Su di Geno. Per forza. Altrimenti ci muoio. Ma cos'è in mano, tra l'altro? Cos'è quella specie di... Di candela. Non capisco. Ma il danno c'è, comunque. Ma è Palpatine! Ma scusami! Ma ha fatto veramente Palpatine. Ardo di potere. Mi fa piacere. E io mi abbraccio. Più che altro mi inquieta quello che c'è dietro. Più che lui... Già lui è un incuo, ma la... 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 La testa... Gigante. E tutte quelle morte sotto anche mi mettono una disretanzia! No! Ah no, ora dico il martello. Retriamo quello allora. Mille frecce. Eh, non so se posso difendermi da queste, però. Riventa Palpatine. C'ho una barra nera che mi sarà buggata, che paura. Eh no, mi curo. Mi devo curare. Per forza. Stello scura. Quella di... Kulex. Che dolore. Eh, mi devo curare per forza. Non voglio usare le cose di Geno perché ho paura che... Di finire i punti fiori non voglio. Macigno. E non so come pararla questa. 800 è tantissimo. È veramente tanto. Eh, mannaggia. Cambiamo in... Certo, come no. Come no. È che non so come funzioni la boss fight. Cioè, non so se la vita del martello sia condivisa. Non gli faccio niente. Adoripodere. Ok, questo è il segnale di quando si riattiva il martello. Trituratore. Merda. Questo è un gran problema. Questo è un gran, gran, gran problema. Teoricamente dovrebbe ucciderci. Teoricamente. Anche se si venivano triturati. No, ma il recupero non lo puoi fare. No, qua... Oddio, non è vero. Non è così tanto. Non è vero. Puoi farlo. Mi sa che non è condivisa la vita comunque. Mi sa che conta solamente... Quando... Allora posso attaccare metà e metà. Cioè, uno attacca il martello e l'altro la testa. Questa è la cosa migliore. Non gli faccio quasi niente, ma... Ora è uno scrigno. Per qualche motivo. La bomba. Sante oddio. Siamo avvenenati. Problema enorme. Mi devo curare subito con Peach. E abbraccio. No, è dischiosissimo essere avvenenati. Ah, ma abbraccio mi sa che toglie anche il... Il trituratore, forse. È possibile? Che tolga quello status? Che dolore. Che dolore. Adoripotere. Non adesso. Non adesso, figlio mio che sto per morire. No, no. Riesco a farlo per un bel po' di volte. Allora, attacchiamolo sempre nel martello. Perché è molto meglio avere tempo per attaccarlo che non fare metà a metà. Magnum, o no? Ha missato. Grazie. Grazie mille. Questo non ha missato, probabilmente. 60. È 60 e tanto. Però posso... Posso, posso, posso... Usiamo questo. Sì, non può shottarmi se sono full. Mi sembra di aver capito. Questa è un'ottima cosa. Non riesco. Perfetto. Ora... Concentriamoci. Ha missato. Sulla testa. Anche perché non posso fare altro in realtà, quindi non è che abbia molta scelta. Io moro scrigno. Questo è pericoloso. Cioè, dipende in realtà. Dipende di cosa fa. Perché non mi faccio così tanto danno. Che succede? Ha missato. A Mario non può fare, ma non ci interessa. Peach è protetta da quello, se non sbaglio, con l'accessorio, quindi... Quanta cazzo di vita ha? Ah beh, che boss finale, ma... Poi ci si vuole. Devo curarmi tantissimo. No! Merda, potrei essere morto. Cazzo! Eh, adoro di potere. No, questo è un problema enorme. Allora. Allora, allora. Abbraccio per forza che altrimenti moriamo. Poi resuscita. Sai che... No, mi difendo. Voglio non farmi... Non dovremmi far curare. Con molta calma. Forse sono vivo. Forse. Che facciamo? Non ho una cura di gruppo. Ho del rinfrescante. Eh, usiamo del rinfrescante. Sì, se non lo faccio adesso non lo faccio più. Per forza. Devo farlo. Non ha... Fatto quello che pensavo. Va bene. Non ha decisamente fatto quello che pensavo. Va bene. No, Geno è quasi full in realtà. Non devo difendermi. Il problema sono gli altri. Il problema sono... Che culo. Recupera, però di poco. 120. È un attacco. 98. È poco adesso. Lui è resistente così. È corazzato. Eh! Morto? No, pensavo del tutto. Caro armatone. Però il vantaggio di quando è corazzato è che non attacca. Quindi sono danni gratis, sostanzialmente. Mentre qua... Fa questo. No! Eh, per forza. Eh, pure il potere. Potetevi non attaccare lui, però, eh. Potetevi non attaccare lui, Dio mio. Guarda, va bene. Va bene. Dovrei essere un po' più sicuro. Forse è un po' troppo lungo. Non riesci, perfetto. E mo' ti meniamo. Sì, però, non è particolarmente... È morto. È morto. Il mio corpo e la mia testa stanno ardendo. Non è possibile. Non ci credo. Sono finito, perso. Va bene. Va bene. Grazie, traduzione. Wow! No! Dei pixel blu! Eh? Ah, la stella? Fin... No, finisce così. No, dai. Secondo me c'è una terza fase. Andiamo, Mario. Manda l'ultima stella fino al cielo. No, dai, c'è... C'è un twist. No? Siamo sicuri? Non si sveglia quello dietro gigante? No! Strano, ma ok. Forse mi aspettavo io le 40 fasi dei boss finali di Final Fantasy, ma va bene. Ecco le quale, sette stelle. Guarda lì che belle. Vorrei non avere un attacco pediatico. Sei un'opzione? Chiedo. Grazie a tutti. La strada stellare è tornata alla normalità. E... A quanto pare gli piaceva l'epilessia, la Squaresoft. Forse su CRT era meno devastante a livello visivo questa cosa. Forse. Che succede? Vabbè, Gino ritornerà ad essere una bambola normale, immagino. Infatti. No? C'è un twist? Ah. Vabbè, giustamente era una stella. Sta facendo la Genki Dama. Tutta questa... Tutte quelle cose, ma con quell'incubo dietro è... Sono qualcosa di terrificante. Ragazzi, abbiamo finito Super Mario RPG dopo sei anni, praticamente. La prima serie sei anni fa è cominciata la seconda, il reboot, diciamo, tre, quattro. Un po' mi dispiace. Teore di coda? Ma, scusa, l'hanno aggiustata così, là? Con le toppe, perdonami. Con i punti gli è andato. Ah, vabbè, qua è... Cosa succede nel resto del mondo? Chiaro, come sempre. E... Re Mello? Cioè, il principe Mello? A uno non gli fregava un cazzo se n'è andato. Bowser che ripara il castello. Che bello. Io vorrei vedere più Bowser così, comunque. Non so. Allora, i giochi Mario e Luigi li ho sempre giocati molto... Cioè, non mi sono mai avvicinato più di tanto. Quindi non so come sia in quei giochi. Però lo vorrei... Ah, qua c'è Johnny. Vabbè. È bella l'immagine, ma non so perché dovrebbe pregambiare qualcosa. Però lo accetto. In realtà è stata un'esperienza incredibile. Ma io continuo a dire che sia uno dei migliori JRPG che esista. Per quello che è. Ovviamente, magari è più semplice di... Di altri... Ah, con Croco. Che bello. Di altre interazioni del genere. Non punta a essere complicatissimo. Anche la trama è molto semplice per quello che deve fare. Ma va benissimo così. Cioè, è proprio divertente. Ed è bilanciato. Che è una cosa che in pochi JRPG riescono a fare. Essere bilanciati non è così scontato. Anzi, quanti giochi di ruolo giapponesi dopo tre ore di gioco sono già rottissimi e devi non combattere mai per essere un minimo al pari con il nemico. Troppi. Ah, che bello qua, Todoski. Cazzo, mi sta dispiacendo. Perché ormai è... Troppi anni che faccio questa serie. C'è voluto veramente il... Ma scusa, si stanno sposando Valentina e Booster? Perché mai? Non farò domande. È troppi anni che va avanti questa serie e un po' mi dispiace che sia finita. Dall'altra parte è impossibile ormai fare gameplay su YouTube. L'ansia di questi modelli 3D mi sta penetrando l'anima. Non Mario, non fare gesti. Non sei bravo. No, non fare il mio occhiolino che poi non ti sogno di notte. Ragazzi, abbiamo finito. Ma Luigi, dove era prima? È stata un'esperienza meravigliosa. Noi siamo comunque in live tutti i giorni sul sito Viola canale GBJ underscore Twitch che metto qua da qualche parte in descrizione poi non so dove finisca. Avremo comunque modo forse giocheremo anche il remake chi lo sa bisogna vedere anche un po' in cosa consiste se è veramente un Remaster Plus o se cambia qualcosa perché da quello che ha mostrato è il gioco uguale con la grafica nuova e non so se mi interessa più di tanto. Grazie aoi. Grazie mille. E poi non ho capito il discorso di animatronic dietro morti. Non so di dire qualcosa che dal giapponese si è perso perché è possibile però boh chi è questo qua? È Johnny. Ma ciao. Eh, guarda che bello. Cioè, questo veramente mi sta mettendo una nostalgia incredibile. Ciao Pixel di Mario Peach. Che bellezza. Che bellezza. Possiamo andare avanti che mi sono sentito un imbarazzo per piacere. C'è una stella su nel ciel. Then. Then. Ragazzi, grazie per la compagnia, grazie per chi è arrivato fin qua dopo anni e anni di serie. Veramente mi scuso perché il ritmo però non ce la va, non ho il tempo di fare i video. È il motivo per il quale le live ormai sono praticamente l'unico modo che ho per fare gameplay. infatti vi ricordo che tutti i giorni sono in live sul sito Viola canale GPJ underscore Twitch il link in descrizione da qualche parte nelle schede da qualche parte lo metto ho anche un server Discord il link anche con la descrizione se volete rimanere aggiornati sulle live sui contenuti o comunque parlare di cose che possano piacere. Detto questo da GPJ è tutto al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.